Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo ha stretto le mani, abbracciato e salutato la fiumana di persone che ha voluto portare l'ultimo saluto al giornalista e conduttore. Lei è pronta a consolare tutti, non si è sottratta nemmeno a quei fan che senza pudore non si sono sentiti frenati dal lutto, dal luogo e le hanno chiesto di scattare un selfie, un gesto che ha scatenato l'indignazione di molti e soprattutto tra il popolo del web, un gesto duramente criticato da Rita della Chiesa, questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria, chi lo riconosce lo eviti, una scena giudicata invadente e inopportuna anche dal giornalista Andrea Pennacchioli che su Twitter scrive Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo, forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di un'intera generazione. A ciò si aggiungono i numerosi commenti degli utenti, tra cui Ma siamo cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria De Filippi in queste circostanze nella camera ardente davanti alla bara di suo marito, follia, schifo, questo uno tra i tanti sfoghi.